Il tachigrafo di TCO 3.0 Abbiamo in anteprima la presentazione del nuovo tachigrafo di TCO 3.0 che è il primo passaggio tecnologico verso il tachigrafo intelligente del 2019 quindi più semplice e più facile da utilizzare per gli autisti. Inoltre abbiamo l'anteprima della Conti Academy che è la scuola di formazione per gli autisti professionali dotata anche di simulatore di guida dove gli autisti possono sperimentare alcune manovre di guida sicura e di guida economica.